Valbone è la donna delle pulizie di mia madre due volte a settimana e mi sta accompagnando nel luogo del mio prossimo domicilio. A Spilimberg dove facevo il prete ormai l'ho sfratto. Non ho soldi, non ho un lavoro, ho 50 anni e come la maggior parte dei preti spretati non ho grandi prospettive. In paese non ci posso più rimanere perché mia madre non vuole che si sappia che non sono più prete e mi ha costretto all'isolamento. E che cosa c'è di più isolato di un faro? Spento? E qui ho ragionato un po' tutte le cose da buttare serva e... Lasso, faccio bene. Grazie a tutti.